Conferenza stampa al vetriolo di Maurizio Acerbo, segretario nazionale di rifondazione comunista e Salvatore Lagatta, sindaco di Bussi sul Tirino. Finalmente, hanno detto, può partire la bonifica delle discariche cosiddette 2A e 2B, grazie alla tenacia dello stesso sindaco e del forum dei Movimenti per l'Acqua. Gravi responsabilità giungono nei ritardi da parte dei funzionari del Ministero PD e Movimento 5 Stelle. Essi dicono poi sconcertati e preoccupati per i contenuti della conferenza stampa di ieri del Partito Democratico. La sensazione che abbiamo è che il Partito Democratico non lavori per la bonifica, ma lavori per la Edison, che sono due cose diverse. Anche ieri nella sua conferenza stampa i rappresentanti del PD nella loro conferenza stampa hanno sostanzialmente per l'ennesima volta fatto il sindacato della Edison, che notoriamente ha interessi a spendere il meno possibile per la bonifica di Bussi, magari non facendo la bonifica integrale. Voglio ricordare che noi abbiamo perso tempo prezioso perché il Ministro Costa con il sottosegretario Morassut del PD hanno annullato una procedura che era arrivata alla conclusione. Adesso sono stati sconfitti dalla giustizia amministrativa. L'intervento del PD di ieri ci riporta indietro, come se si dovesse riaprire la discussione. Facciamo presenti alle cittadine e ai cittadini che oramai ha acclarato che il costo delle bonifiche va a carico di chi ha inquinato, cioè della Edison. C'è un cronoprogramma che è uscito il mese di settembre che fa partire l'iter per la bonifica il 31 ottobre ed è scritto in modo chiaro che il 21 luglio del 2024, dopo 720 giorni, la bonifica deve essere completata. A me piace parlare per carte. Ieri ho sentito dire da parte del PD che hanno dubbi sul progetto. Nella sentenza del Consiglio di Stato, che ho qui, la leggo, è scritto che la DECDEM, che è la ditta che si è aggiudicata la gara, è disposta a integrare il progetto definitivo sulla base dei rilievi fatti dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Per cui non riesco a capire chi ha dato le informazioni al PD per dire che questo progetto non sarà approvato. L'uscita che si fa ieri mi mette paura, perché mi dice di fare sulla 2E e 2B, dicono, quello che si è fatto sulla Tremonti. Oggi ho letto i giornali. Miracolo, parte la bonifica della Tremonti. L'iter per la bonifica della Tremonti è partito il 30 novembre del 2016, cioè cinque anni fa. Ad oggi non viene ancora tolto un chilo di terreno da quel sito, essendo dire da Brasioli che nel giro di quattro anni finisce la bonifica. Per cui stiamo parlando di nove anni e vorrebbero utilizzare questo metodo anche sulla 2E e 2B. del studio industriale, la Eligen.